Dovevamo farlo sto video Nino perché abbiamo avuto la notizia e su tutti i giornali su tutte le testate Sergio Malatella purtroppo cinque anni di daspo e caso che non si può ma poi cosa ha fatto ma per avere cinque anni di daspo no dai non c'è troppa crudeltà e dai non bisogna fare una giornata a cinque anni poverini per aver fatto cosa un gesto innocuo alla fine e fa parte della sua squadra cioè ma poi cosa ha fatto niente di che è stato uno sfogo come un bambino che è una cosa del genere io non gli avrei dato cinque anni cioè veramente voglio parlare a nome di tutti i tifosi del Bari di Rimetiz e tutte le società la società la Turi ci dispiace questa perdita e quindi dobbiamo dire un messaggio un messaggio importante allora facciamo miseria per una volta tifosi del Bari capiteci se lo facciamo ma purtroppo dobbiamo dire sta cosa Sergio Malatella noi siamo con te e ovviamente una cosa ma proprio una cosa che comunque noi stanno facendo ma traiù comassa ma traiù comassa ma traiù comassa ma traiù comassa e quindi te lo va più sei quindi mo stavo più no quindi più undici e quindi più undici e quindi o no e quindi o no e quindi o no e quindi